No al fotovoltaico sui terreni agricoli, i pannelli sui tetti, l'agricoltura nei campi. Slogan su striscioni a corredo della protesta di una comunità che vede minacciata la naturale destinazione a cultura dei campi in una riconversione in max impianti fotovoltaici ad oggi consentiti da un decreto legge del 2021. Alle tanti proposte d'acquisto per tali scopi stanno arrivando su diversi terreni di area agricole di Pesaro e dintorni. Su uno di questi, 10 ettari in strada in sala di Villa Fastigi, si sta convergendo la preoccupazione di agricoltori, residenti e politici. Ad accendere l'attenzione sulla problematica l'Associazione Ambientalista UPUPA. Questo non è l'unico terreno che a Villa Fastigi sarà oggetto di questo tipo di impianti per il quale noi non siamo assolutamente contro le fonti rinnovabili, ma ovviamente vogliamo imporre l'attenzione sulla problematica di fare impianti fotovoltaici su terreni agricoli produttivi che a lungo andare potrebbe essere un problema molto importante. Infatti questo è un terreno di 10 ettari, ci sono tanti altri terreni nella zona dove sono state già richieste autorizzazioni per impianti della stessa tipologia. Quindi appunto siamo qui oggi per porre l'attenzione e per chiedere agli uffici di valutare quali sono anche gli impatti paesaggistici e a tal fine porterò la prossima settimana in consiglio comunale una mozione chiedendo al sindaco di farsi parte di diligente per capire quali sono le reali problematiche che si potranno andare a riscontrare con tutti questi impianti in questa zona. Diciamo qui c'è un impianto di erba medica che ormai è quasi arrivato alla fine, però abbiamo fatto fino all'anno scorso il fieno per le bestie che noi lo portiamo su dove fanno il latte, il parmigiano reggiano. Quest'anno sarebbe ora di romperlo l'impianto, però essendo rinnovato il contratto non siamo stati tutti in grado di romperlo per poi metterci un cereale come il grano duro per fare la farina e pasta. Ti propongono delle cifre che un agricoltore non ci si potrebbe mai avvicinare ad acquistare un terreno a queste cifre. I pannelli fotovoltaici vanno fatti sopra i tetti e non nei terreni agricoli che bisognerebbe lasciarli agli agricoltori per farli coltivare come è sempre stato fatto da una vita. I pannelli vanno fatti sopra i tetti che possono portare molteplici benefici. Io ritengo che questi terreni debbano continuare ad essere agricoli perché ci sono tanti spazi, basti pensare a tutte le aree industriali, i tetti dei capannoni, i parcheggi, anche le stesse aree agricole, ma ovviamente sopra i fabbricati agricoli o sopra i piazzali, ma sicuramente no sopra i terreni agricoli. C'è una normativa purtroppo che è uscita nel 2021 che considera gli impianti fotovoltaici impianti di interesse pubblico, si è voluto far sì che le autorizzazioni per realizzare gli impianti fotovoltaici siano molto molto semplificate, i comuni in molti casi non possono opporsi e per questo che il governo, faccio un appello al governo Meloni, perché ricordo che la nuova normativa del 2021, da metà del 2022 occorreva che il governo emanasse quelle che erano le linee guida che poi dovevano servire alle regioni per andare a individuare quelle che erano le aree idonee e non idonee. Nel governo, nella regione hanno fatto una normativa in questo senso, noi come gruppo del Partito Democratico a marzo del 2023 abbiamo presentato una proposta di legge appunto che andava a anticipare quelle che erano le linee guida nazionali proprio per riuscire a porre un freno rispetto a questo tipo di impianti. La regione Marche non ha voluto portare avanti questa legge che abbiamo fatto, ha detto che occorre per forza aspettare la normativa nazionale, noi non condividiamo questa scelta delle Marche perché un'altra regione, ad esempio di centro-destra come il Veneto, invece ha approvato una legge molto simile alla nostra proprio per porre un limite all'utilizzo, all'installazione dei pannelli fotovoltaici sui treni agricoli.